Vi invitiamo a rifugiarvi presso la centrale di polizia di Raccoon City. Cibo e medicinali verranno distribuiti a chiunque ne abbia bisogno. Oh mio Dio, non posso crederci. La centrale di polizia è vicina. Ci diranno qualcosa. Sì, ma... se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti... Qualcuno è sopravvissuto. La città è grande. Non siamo soli. Dovremo camminare da qui. Meglio correre. Sì, buona idea. Leon, torniamo indietro. Ma che... Porca troia. Le esci. Esci ora! Non riesco! Tieni di porte! Non riesco! Non riesco! Non riesco! Oh, merda. Claire! Claire! Claire, stai bene? Sì! Tutto ok! Tu stai bene! Non posso stare qui! Non è sicuro! Oh, merda. Vai avanti! Ci vediamo alla centrale! Non posso stare qui. Sembra l'apocalisse! La centrale di polizia! Ci sono quasi! Sì! 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 C'è nessuno! Avanti, Chris. Dove sei? Oh, merda. Sono riusciti a entrare. Davide, Marvin, ci siete? C'è una via d'uscita. È scritto qui. Non mettere i forzi. Corri da gli oestri. Devo andare ad aiutarlo. Oh, bene. Dove sei? No, no... No. 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 Oh, mio Dio. Aprite! Vi prego! Aprite! Aprite questa cazza di casa! La serranda! Aprite! Avanti, aprite! Aiuto! Dammi la mano! Aiuto! Forza! Dammi la... Dammi la tua mano! Tranquillo! Ti ho preso! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! Ma mi dispiace! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio!